Equilibri di bilancio e prelevamento dal Fondo Riserva scontro in Consiglio Provinciale e mal di pancia fra i banchi della maggioranza ad accusare la relazione dell'assessore al bilancio Silvano Macculi, il Democratico e Alfonso Rampino secondo il quale la verifica degli equilibri di bilancio dimostra ancora una volta la non volontà del centro-destra di ridurre le tasse ha detto, anzi il maggiore gettito serve a finanziare le maggiori spese Carte alla mano, secondo il Democratico, nell'arco di quest'anno si è registrato un aumento della spesa corrente di quasi 800.000 euro ma l'anomalia, ha fatto notare Rampino, risiederebbe nel rinvio di altri 650.000 euro di debito al 2014 nonostante la normativa sul caso non prevede in alcun modo il rinvio a meno che non ci siano atti di transazione che vadano in questa direzione ma a creare malumore nella stessa maggioranza di Gabellone c'è la procedura di prelevamento dal fondo di riserva che non avviene attraverso una delibera di giunta che indica chiaramente i capitoli da rimpinguare e c'è chi maligna che sia stata studiata ad hoc per non far conoscere alla stessa maggioranza le risorse da elargire si parla di quasi 270.000 euro su cui non solo il PD vorrebbe vederci chiaro in difesa dell'operato di Gabellone si schiera il consigliere del PDL Biagio Ciardo che esprime valutazioni positive su quanto l'amministrazione provinciale ha realizzato in termini di puntuale realizzazione dei programmi illustrati ad inizio consigliatura Ciardo ha fatto presente all'opposizione che nel corso di questi anni l'amministrazione Gabellone è riuscita anche a spegnere l'incendio dei debiti fuori bilancio provenienti dalle passate amministrazioni Ci sono servizi che non stiamo più dando